Io faccio notare che se passati da un importo di circa 40 milioni di euro a oltre 100 milioni di euro contemporaneamente i posti letto sono diminuiti, quindi c'è una lievitazione esagerata del costo dell'opera e una riduzione dei posti letto, quindi questo non si riesce a capire a cosa sia dovuto. Quanto al discorso delle famiglie, quello che a me risulta è che nel momento in cui c'è una procedura di es proprio e benché le famiglie non accettino l'importo e quindi facciano ricorso, comunque sia le si deve riconoscere quella che è l'indenità provvisoria, cosa che a me risulta che non è stata fatta, anche se la materia in oggetto è subiudice, comunque sia può essere subiudice il delta che è dovuto a queste famiglie. Poi, per carità, io non sono né l'avvocato delle famiglie né tantomeno il giudice che posso qui stare a giudicare a dire qual è la verità, però mi rendo anche conto che vedersi arrivare i bobcat sotto casa, prosciugare i laghetti, fare delle opere invasive non ti lascia tranquillissimo, non ti lascia tutta quella tranquillità e serenità, vedremo come si svilupperà la cosa. Quello che a me risulta è che comunque queste persone non sono più nella loro casa e non hanno ricevuto neppure un centesimo per potersi permettere in qualche modo di pagare un albergo o una sistemazione alternativa, l'affitto e quant'altro. Comunque, una vicenda quantomeno agghiacciante se mi è consentito. Ho finito. Grazie consigliere Perrino.